Ciao, sono Miglia Bisacchi di BroBisacchi.it. Oggi sto per mostrarti qualcosa di incredibile, una novità assoluta che ti lascerà senza parole. Ma non guardare la bellezza di questi profili completamente nascosti, tutto panoramico, si vede solamente dentro. Non guardare questo montante così sottile, è più sottile del mio dito, è meno di due centimetri. Non guardare quanto scorre questo scorrevole, che è fluido, che va da solo e va con un dito, ma non lo guardare, non è importante. Guarda a pavimento, vedi qualcosa? Non c'è nulla, non era mai successo prima, nessuna guida, nessun incianto, c'è solo il pavimento di casa tua. Eppure, stesse prestazioni termiche pazzesche, prestazioni acustiche, estetica, che te lo dico a fare, è bellissimo perché non si mette assolutamente nulla, e stesse, anzi, migliori prestazioni di tenuta all'acqua. Infatti, prendo questo foglio di carta, come puoi vedere, passa dall'altra parte perché c'è un completo passaggio di aria. Federale William Marcosini è tra i topi in casa, non solo volente all'acqua, ma mandando giù il serramento, in questo caso è motorizzato, ma potrebbe essere che manuale con la maniglia, tutto il serramento si abbassa, appoggia sul pavimento, le guarnizioni a palloncino si vanno a schiacciare e fanno una tenuta estrema, tanto che nemmeno un foglio di carta riesce a passare. Quindi hai una prestazione termica pazzesca, acustica pazzesca, estetica pazzesca e massima tenuta all'aria, ma soprattutto senza nessuna guida a pavimento, solo con sistema di sacchi. Ciao e al prossimo video.